Monbello di Torino partecipa al progetto nazionale sperimentale mobilità, casa lavoro, scuola, casa. Lo fa attraverso l'estensione del progetto MEBUS. Il progetto MEBUS è un progetto che già esiste all'interno della collina Chierese di collegamento attraverso i vari comuni. Monbello n'era escluso e grazie a questa partecipazione con la città metropolitana il servizio è stato recentemente esteso. Il servizio è partito dal 4 settembre e speriamo che la cosa funzioni e possa dare la possibilità ai giovani e ai lavoratori di muoversi liberamente sul territorio. È possibile usufruire dal servizio sia la mattina che al pomeriggio fino alle 7 di sera durante i giorni feriali. Escluse naturalmente le fasce, quelle già servite. È un servizio che dà la possibilità di mettersi in connessione con i diversi comuni, non solo sulla direttrice principale. Basta chiamare il giorno prima il servizio per mettersi d'accordo su orarie tempistiche. È molto utile perché per esempio io molte volte mi mancano dei professori a scuola e quindi molte volte non c'è un pullman a quell'orario e quindi molte volte mi serve per tornare a casa. Mebus Collina Chiarese costa come gli altri autobus di linea extraurbani. Il biglietto si acquista a bordo senza sovrapprezzo. I passeggeri in possesso di abbonamento formula o di tessera regionale di libera circolazione sono ammessi a bordo pagando il biglietto a tariffa ridotta del costo di un euro acquistabile a bordo.